Tragedia del lavoro in Piemonte. La vittima è un bellunese, si chiamava Giovanni Corona. È scivolato dal cestello della gru ed è volato da un'altezza di 27 metri. Giovanni Corona era originario di Erto, abitava a Longaroni, aveva lavorato per tanti anni all'estero, aveva quattro figli. Il sindaco non è possibile perdere la vita in questo modo. Titolone del gazzettino di Belluno, cade dalla gru, muore a 65 anni. Ha trattato la notizia Ivonne Toscani, che salutiamo, e il lancio in prima, ve lo leggo, vola da una gru e si schianta al suolo. È morto così Giovanni Corona, 65 anni, di Longarone, padre di quattro figli. L'incidente sul lavoro lunedì attorno alle 17 a Rivoli, Torino. Poi la notizia si è diffusa ieri, dove Corona, a Rivoli, stava lavorando al montaggio di una gru dalla quale è precipitato nel vuoto un volo di una trentina di metri che non gli ha lasciato scampo. Il 65enne era impegnato in un cantiere edile in via Cesare Battisti, a Rivoli, dicevamo, a circa 20 chilometri dal capoluogo piemontese, cioè da Torino. L'operaio avrebbe perso l'equilibrio ed è precipitato nel vuoto senza possibilità di salvarsi. Sono scattati soccorsi, Corona è morto in ospedale. Titolo collegato, i sindacati, strage silenziosa, servono subito più tutele. Una strage silenziosa. È chiuso in queste tre parole quanto sta avvenendo nel mondo del lavoro e della sicurezza. La strage non si ferma, afferma Massimiliano Paglini della CISL e tocca ancora una volta la nostra comunità bellunese. All'interno ovviamente abbiamo le notizie che riguardano questa persona. Vi faccio vedere anche la fotografia di Giovanni Corona, che aveva 65 anni e è morto lunedì. Ovviamente trovate approfondimenti anche sul Corriere delle Alpi. Io ora sto leggendo dal gazzettino, in particolare dalle pagine del gazzettino di Belluno. Il mio invito è quello di andare poi, che andiate ad acquistare questi giornali da cui vi leggo qualcosa, ma è giusto poi che per saperne di più li acquistiate. Allora, all'interno c'è la fotografia della gru. C'è un condominio ricoperto dalle impalcature e di fianco una gru che veniva in allestimento. Il cestello della gru che Giovanni Corona stava allestendo e dal quale l'uomo è volato al suolo. L'altezza è di 27 metri. A nulla sono serviti i tentativi dei medici di salvarlo. Muore cadendo dalla gru, Giovanni lascia quattro figli. Comunità di Longarone sconvolta. Ha perso Giovanni Corona, 65enne, deceduto nel Torinese. La vicinanza e il cordoglio espressi dal sindaco Padrin non è possibile perdere la vita così. Io vi lascio leggere i particolari. Vado solo all'ultimo paragrafo. La notizia si è diffusa subito sia a Erto, dove Corona aveva vissuto per molti anni, sia a Longarone, dove si era trasferito. Giovanni era una brava persona, ricorda Alice Reia, vice sindaco e medico curante. Non so mai come pronunciare il nome di questa persona. Che ha dato la sua vicinanza alla famiglia distrutta dal dolore. A settembre Corona era rientrato in Italia dopo aver lavorato una vita all'estero. La moglie, Lorena, David e i quattro figli stanno aspettando il nulla osta per fissare la data del funerale. Passaggio che potrà avvenire soltanto dopo l'autopsia, che potrebbe essere effettuata a breve. Giovanni era conosciuto a Longarone, aggiunge il sindaco Roberto Padrin, da Sanremo, dove si trova in questi giorni. È una tragedia tremenda. Ai giorni nostri non dovrebbe accadere di morire sul lavoro. In questo difficile e doloroso momento esprimo la mia vicinanza e quella dell'intera comunità alla famiglia. Stesso pensiero di vicinanza e di solidarietà è stato subito espresso anche dal segretario generale della Filca CISL Torino. Siamo vicini alla famiglia, ferma in un comunicato. E torniamo a chiedere con forza interventi drastici e celeri per garantire la sicurezza in edilizia che resta uno dei settori più a rischio. In Italia, infatti, muore in media un edile ogni due giorni. Proprio a Rivoli, nei mesi scorsi, era crollato un ponteggio, travolgendo gli operai che erano al lavoro, provocando il ferimento di tre lavoratori. L'incidente di lunedì, costato la vita a Giovanni Corona, conferma come le morti bianche siano un'emergenza da porre tra le priorità da affrontare con il comparto edile pesantemente toccato da questo fenomeno. Ripeto, è solo una parte di ciò che il Gazzettino ci offre su questo argomento. Vi prego di andare ad acquistare questi nostri giornali. Il Corriere delle Alpi mette, come fa il Gazzettino, in prima, in apertura, dopo il titoletto su Sanremo, la stessa notizia, muore cadendo dalla gru, cede l'imbracatura, volo di 30 metri nel cantiere, senza scampo Giovanni Corona di Longarone. Tragedia in Piemonte, vittima un piccolo imprenditore edile di 65 anni, vicino alla pensione, stava montando il macchinario. In edilizia, lavorare ancora all'età di 65 anni è un problema, sono lavori usuranti, pericolosi, che richiedono forza fisica, prestanza, equilibrio. Insomma, ci sarà da ragionare su questo fatto. La fotografia di prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo ad altro, ovviamente, oggi, in questa rassegna stampa di Radio Piave in Blu, di mercoledì, 7 febbraio. Luigi Guglielmi, che vi conduce nella lettura dei principali titoli sui nostri giornali, rassegna che abbiamo aperto, appunto, con questa disgrazia incredibile. Anche da qui, io personalmente non conosco la famiglia di quest'uomo, ma anche da qui mi sento, cioè da Radio Piave, cioè dall'amico del popolo, mi sento di esprimere le condoglianze alla famiglia. Alla moglie e ai quattro figli, insomma, di questa povera persona morta in questo modo. Dobbiamo farci vicini a queste tragedie, perché la nostra provincia è piccola, siamo una sola comunità, e penso che veramente tutti noi dobbiamo sentirla come qualcosa che ci capita in famiglia, dobbiamo neanche cercare di fare in modo che non succedano più queste cose. C'è possibile. Dunque, vi dicevo, foto centrale del Corriere delle Alpi. C'è il campanile di Cortina, di notte si vede un faro che illumina le piste, la zona di Col Drusche, ed è un assaggio della spettacolarità che si sta studiando e preparando per le Olimpiadi, perché quel faro illumina la pista ma proietta anche i cinque cerchi. Assaggio di Olimpiadi a Cortina, i cinque cerchi illuminano Col Drusche. Questo è il titolo di prima pagina del Corriere delle Alpi. Altri titoli. Deficito di mezzo milione, Unione Montana al Bivio. Parliamo dell'Unione Montana, Belluno, Ponte nelle Alpi. L'ente è in difficoltà, si troverà presto di fronte ad un altro Bivio, dice l'articolo. Con il lavoro sui conti quasi terminato, la parte politica dovrà decidere cosa fare dell'ente, che al momento si trova con un solo dipendente in servizio pieno, più un altro per alcune ore a settimana. Troppo pochi per ridare ossigeno all'Unione, farla tornare ad essere quell'ente operativo di supporto ai comuni, che era fino a qualche anno fa, Alessia Forzinco anche ne parla. Io vorrei ricordare, perché basta avere qualche anno in più e ormai mi metto tra quelli che possono dire di avere una certa età, con i miei quasi 59, è facile ricordare per chi lavora anche così, che fa il mio mestiere, che l'Unione Montana di Belluno Ponte, prima comunità montana di Belluno Ponte, era derivata da una scissione, perché una volta c'era una sola comunità montana della Valbelluna che arrivava fino a Belluno e a Ponte nelle Alpi e poi, per volontà, ricordo di Gian Claudio Bressa, la comunità montana fu sdoppiata e nacque la Belluno Ponte, così come nacque la comunità montana a Valbelluna. Chissà, mi chiedo, chissà se adesso non si possa immaginare una soluzione che rimetta insieme questi due enti e che magari non era neanche stata poi così lungimirante l'idea di dividerli, ma comunque non tocca a me dar giudizio, lo faccio solo così come spunto, come ricordo di quello che è successo. Ospedale di Cortina, intoppo ai lavori al Co di Villa, sito inquinato, è da bonificare, vedete, vedete, mentre se insinano le Olimpiadi e si vuole che quella struttura comunque possa offrire un supporto, vedete gli imprevisti che possono nascere quando si aprono cantieri ed è per quello che si teme, si teme per la pista da Bob, si teme per tutto quello che è impiantato che non è ancora stato completato, due anni mancano, è pochissimo. Cantieri al Co di Villa, c'è un intoppo, dice il lancio, bisognerà bonificare un sito inquinato da anni, ma il commissario dal Ben, il commissario dell'Ulss, rassicura, cioè dice che ce la faremo comunque, che ci stiamo, no? Vi leggo il taglio basso, d'altra parte l'unica altra notizia che compare di Belluno su questa prima pagina molto nazionale, buio sbiadito dai lampioni a led dell'allarme degli astrofili feltrini, c'è un po' troppo luce nel cielo notturno feltrino, diversamente dalla luminosità allo zenith, cioè al culmine che negli ultimi anni tutto sommato non è cambiata. L'inquinamento luminoso, guardando un po' più in basso, è peggiorato, è quanto emerge dal monitoraggio effettuato dall'osservatorio di Arson dell'associazione astronomica feltrina Reticos, che chiede di ridurre la potenza delle luci led dell'illuminazione pubblica Scottini, a pagina 20, che ne riferisce. E vedete, da un lato vogliamo l'illuminazione, dall'altro c'è l'esigenza di risparmiare, dall'altro ancora c'è chi dice, no, stiamo inquinando il nostro cielo, non vediamo più le stelle. Si fa fatica a mettere tutto insieme, si fa veramente fatica. Torno al gazzettino, alla prima pagina del gazzettino di Belluno, che avevamo visto per il titolone sulla gru. Nella foto centrale c'è montagna anche qui, sul Corriere abbiamo visto Cortina e i Cinque Cerchi di Notte, qui c'è lo stesso buio, ma per tutt'altra ragione si parla il gazzettino da spazio, alla questione delle stanze di vetro in montagna, c'è polemica. Il sindaco Grones, cioè il sindaco di Livina Longo, boccia la proposta della regione e c'è un prototipo di queste strutture, no, per dare più occasioni di ospitalità in montagna, la regione ha inventato questo modulo, stanze di vetro in montagna, virgolette, prima le strade e i servizi, dormire sotto le stelle a 2000 metri, in stanze con pareti e soffitti di vetro, entra nel vivo il dibattito per le Starlight Rooms, è in discussione il progetto di leggi in regione, in provincia ci potrebbero essere 56 stanze sotto le stelle, qualcuno dice vale la pena, c'è questa offerta di ospitalità in più, roviniamo le nostre montagne per mettere giù queste cose, vabbè insomma lasciamo il dibattito, poi anche voi esprimetevi, c'è anche appunto lo spazio sotto questa rassegna sui social per esprimersi, basta che si usino toni e modi educati e anche che non si dicano falsità, queste sono le condizioni che noi come amico del popolo poniamo rispetto a quello che potete e volete scrivere a commento delle nostre news. Rinnovabili e acqua nel 2025, un solo BIM del 1 gennaio 25 sarà operativo il nuovo BIM unico che si occuperà non solo di servizio idrico integrato ma anche di energia rinnovabile, nel 2024 infatti prenderà forma il progetto di fusione che prevede l'incorporazione di BIM infrastrutture in BIM-GSP, è stato spiegato ieri all'assemblea delle due società partecipate, la procedura è semplificata senza periti del tribunale. Certo che se facessimo la storia della galassia BIM di come è stata montata, smontata, duplicata, replicata, ricongiunta, ceduta, tante cose, tante cose, bosco delle castagne, una corsa per salvarlo, è questo Daniela Dedonà che come me abita vicino a questo sito che stringe il cuore, insomma ne scrive e sono sicuro che ne scrive anche col cuore, ciao Daniela, il bosco delle castagne è a due passi da Belluno, sopra Belluno, sopra zona di, non so, Ivezzano, insomma, ed è il posto dove furono impiccate dieci persone al tempo della seconda guerra mondiale, alberi stecchiti, senza fronde, che si stagliano nel cielo, ora sul bosco delle castagne le piante pagano lo scotto del passare del tempo, i rami stanno marcendo, sintetizza il presidente dell'ANP, Gino Sperandio, ma i problemi sono vari, alcuni castagni mostrano muffe alla base, altri non hanno più polloni vitali e tutti, fatto negativo, stanno per essere inglobati dal bosco, è una memoria che si disperde e fa molto dolore perché sono ancora lì quei rami a cui furono appesi, appesi quei giovani di cui una lapide ricorda tutti i nomi, un ramo addirittura si è già spezzato, è caduto a terra, qualcuno l'ha messo vicino al tronco, piange il cuore, andate a vederlo, è il mio consiglio prima che sparisca del tutto quel sito così importante, marito padrone picchia la moglie davanti ai figli, sono le notizie che non vorremmo dare, chiesti oltre 4 anni per un 34enne segnalato alla procura dai servizi sociali, condannatelo a 4 anni e 4 mesi, una doccia fredda per il 34enne di origine tunisina, cittadino italiano sposato con una 37enne feltrina che ieri è comparso di fronte al giudice per l'accusa gravata di maltrattamenti in famiglia, da settembre ha il braccialetto elettronico e non può avvicinarsi all'ex moglie che avrebbe insultato e malminato quotidianamente di fronte ai bimbi piccoli in una casa di fedre, la donna ha chiesto un risarcimento di 20.000 euro. In tribunale truffa delle biomasse, un reato è già prescritto, trasporti dal 25 febbraio, nuove chiusure della ferrovia, d'altra parte con elettrificazione dobbiamo ancora sopportare tutta una serie di problemi, c'è poco da fare. Sarà un 2024 di passione per coloro che utilizzano il treno per gli spostamenti e infatti è stata annunciata ieri la chiusura a intervalli della Feltre Montebelluna e della Treviso Belluno dal 25 febbraio al 14 dicembre tutto l'anno. Una chiusura necessaria per gli importanti lavori di elettrificazione e la sistemazione di alcune stazioni in vista delle olimpiadi invernali a Cortina. Dopo sarà tutto messo meglio, però paghiamo il fatto che per troppi anni non si è fatto abbastanza e adesso la rincorsa, le modifiche, i miglioramenti ci costa tantissimo in termini di funzionalità. Falcade, i povedenti a lezione di sci in Agordino, queste sono le belle notizie, le belle iniziative che sapremmo proporre in provincia di Belluno. Mountain Bike già da specie ad Abu Dhabi è il debutto nell'anno olimpico, l'evento l'Ucraina siamo noi di Battito Cortina, sempre Cortina due anni alle olimpiadi, dobbiamo fare squadra e a parlare, in intervista di Marco Di Bona, è il sindaco Lorenzi. Con questo mi fermo qui, vi saluto, auguro a tutti voi un buon mercoledì 7 febbraio. In chiusura di questa rassegna consentitemi di esprimere di nuovo vicinanza alla famiglia di quel visto Giovanni Corona che purtroppo è morto cadendo dalla gru in Piemonte, originario di Longarone. Un caro saluto a tutti, ciao Luigi Gugliani.